Buongiorno FTI Online, partenza negativa questa mattina per la borsa, Fuzzi Mib in questo momento in caldo del 0,73%, siamo intorno ai 21.770 punti, sul grafico orario però è comparsa una candela di tipo Hammer, quindi un martello che ha un minimo a 21.700 punti, circa come la candela della prima ola di mercato, quindi oltre ad essere C.Lammer sull'ultima candela abbiamo anche un Tweezer Bottom, magari adesso vi metto il grafico sullo schermo, non avevo visto che era questa situazione così interessante, pensavo di guardare subito i grafici giornalieri, ma sull'intraday effettivamente si sta sviluppando questa situazione potenzialmente interessante e quindi magari andiamo a guardare il grafico insieme, vedete questo è il martello di cui vi stavo parlando, è vero che siamo alle 10.40, quindi la candela oraria si chiude solo alle 11, però in ogni caso per adesso questa configurazione è su 21.7, abbiamo questa potenziale un segnale Tweezer Bottom, quindi sopra 21.9 ci sarebbe un segnale di inversione, la linea di tendenza che parte dai minimi di metà agosto e che passa per i minimi del 25 di settembre è praticamente coincidente con la base del nostro Tweezer Bottom, quindi da questi livelli potrebbe effettivamente esserci un rimbalzo almeno fino a ricoprire il gap ribassista di questa mattina a 21.9.30, è sempre pericoloso andare a comprare sulla debolezza, io questa mattina l'ho fatto con il Future, sul Future ho anche segnalato la creazione adesso di un potenziale doppio minimo, vedete questo qui è il nostro mega trader, stamattina avevo segnalato la possibilità di acquisti sulla debolezza, sono stati poi chiusi con 50 punti di guadagno e ora nuovamente diamo la possibilità di comprare sopra 21.730 sperando nella realizzazione di questo piccolo doppio minimo, quindi normalmente come dicevo prefisco non operare sulla debolezza, però nella giornata di oggi, grazie proprio alla presenza di questa trendline di cui vi ho parlato, c'è una possibilità di rimbalzo, dove siamo con il grafico di medio termine, invece questo è il grafico del Future Share giornaliero, è abbastanza evidente che i prezzi sono fermi ormai da mesi addosso di una forte resistenza, vedete qui c'è questo triplo massimo dal 13 settembre toccato a 3 volte area 24 e 100, dove abbiamo il massimo del 17 aprile e anche a luglio per 3 volte i prezzi sono scontrati con questo ostacolo senza mai riuscire ad averne ragione in modo netto, l'andamento di luglio e l'andamento di adesso sono praticamente uguali, c'è questo testa spalle ribassista disegnato a luglio con decline molto inclinata negativamente, quindi poco utile da un punto di vista dell'operatività che però ha funzionato bene dando un segnale di vendita alla violazione della decline, esattamente stessa figura adesso sul giornaliero di settembre, con la candela di ieri del 1 ottobre c'è stato anche un bearish engulfing, quindi una figura negativa in termini di candele giornaliere, il rimbalzo di cui abbiamo parlato dal potenziale doppio minimo che si sta disegnando adesso sul grafico intraday, quindi è un segnale che avrebbe a che fare col breve termine, come vi ho detto probabilmente potrebbe limitarsi alla ricopertura del gap ribassista lasciato oggi in avvio o tutt'al più altezza e al basso di area 22 mila che era il supporto, la resistenza critica e adesso torna ad essere resistenza critica in questa fase. Se andiamo a prendere nuovamente il nostro share, ma potremmo fare le stesse identiche considerazioni anche sul Futsimil che magari alcuni di voi preferiscono perché è direttamente legato al future e agli etf, vedete la situazione è assolutamente simile e abbiamo questa forte esistenza poco oltre i 22 mila punti, queste due figure che si stanno disegnando, quella già completata a luglio e quella che si sta disegnando adesso settembre e ottobre che fanno pensare a un'evoluzione negativa, la linea di tendenza che parte dai minimi di dicembre dello scorso anno, possiamo tracciarla o dai minimi di maggio o dai minimi di agosto, poco cambia perché ci fornisce un supporto abbastanza, sono abbastanza vicini all'area di supporto 20 mila 4,30, 20 mila 5 circa. Anche sul Futsimil abbiamo il Berish and Galfing di ieri e ieri l'altro, quindi anche in questo caso un eventuale rimbalzo potrebbe essere limitato a un discorso di breve termine. Per dire che si possono attivare strategie a ribasso probabilmente, quindi anche l'acquisto di etf short magari anche a leva sarà meglio aspettare, però la violazione della base di questo martello disegnato il 25 di settembre con minimo 21,492, quindi sotto 21,490 sarebbero approvate strategie a ribasso almeno per il test di area 20 mila 4, 20 mila 5. Cosa ha scatenato questa corsa alle vendite nelle ultime ore? Ieri abbiamo visto il dato sull'isme manifatturiero americano che è stato riportato sulla nostra pagina Facebook oltre che sulla home page del sito FTA online, sapete che qui sono riportate tutte le notizie che riguardano i mercati finanziari, ma sostanzialmente a fare precipitare la situazione è stato l'isme manifatturiero molto di sotto della soglia dei 50 punti, voglio vedere se riuscivo a recuperarlo, ci stiamo avvicinando, eccolo qua, deludio dell'attesa, resta sotto quota 50, negli USA l'Institute for Supply Management ha comunicato che a settembre l'indice inisme manifatturiero è sceso a 47,8 dal 49 1 di agosto, se non sbaglio è il minimo dagli ultimi 10 anni e è il secondo mese consecutivo, dal 2016 non succedeva questo, che l'indice si mantiene sotto la soglia dei 50, che è quella che separa espansione da contrazione, alcuni potrebbero osservare che la manifattura negli USA rappresenta solo circa il 12-13% del PIL e quindi ha un impatto limitato se vogliamo sull'economia nel suo andamento globale, c'è però da dire che un rallentamento della manifattura ha un grosso impatto sui redditi dei lavoratori e di conseguenza può avere un impatto anche sulla spesa interna, sappiamo che la spesa rappresenta almeno i due terzi, se non anche qualcosa di più del PIL globale statunitense, quindi tutte le notizie che hanno a che fare con un rallentamento della spesa, potenziali a rallentamento della spesa, ovviamente sono negative anche per la borsa, perché fanno temere un abbassamento dei profitti degli utili aziendali. Sul grafico dell'S&P 500 abbiamo questa situazione di trading range che si sta sviluppando ormai dal mese di agosto, è vero che potrebbe anche essere una figura di forma triangolare, quindi potrebbe essere la classica pausa del mercato, ma in ogni caso il rischio a questo punto di andare a vedere la base di questo trading range è del tutto presente, i 2850 punti S&P 500 sembrano quindi ormai nelle cose, c'è la linea di tendenza che parte ai minimi di dicembre e passa per quelli di agosto, la linea funziona a supporto intorno ai 2915, quello è il primo livello sul quale potrebbe fermarsi la discesa, se non si ferma lì il rischio di vedere area 2850 e 2860 è abbastanza elevato, se poi i prezzi dovessero scendere sotto i minimi di agosto, allora tutte le oscillazioni viste nelle ultime settimane si dimostrerebbero un doppio massimo e a quel punto ci sarebbe da temere veramente l'avvio di una correzione estesa di tutto il rialzo che c'è stato dai minimi di dicembre. Siamo ancora lontani da questa eventualità, quindi inutile iniziare a fare previsioni catastrofistiche, ma fino a che rimarremo al di sotto di questa linea che è il separatore del nostro trading range verso l'alto, quindi finché siamo sotto area 3020-3025 non si può escludere il rischio di evoluzione a ribasso più o meno estesa, quindi di certo sull'S&P 500 in questo momento non andrei a comprare sulla debolezza, c'è la possibilità di un rimbalzo di breve perché abbiamo visto i prezzi che ieri si sono fermati esattamente sulla base di questo gap, il gap del 5 di settembre, la base del gap a 2,939, il minimo di ieri è a 2,938, 3,9 perché anche questo è 2,3870, quindi siamo esattamente arrivati su questo supporto, oggi potrebbe effettivamente esserci un rimbalzo, se questo non dovesse avvenire ci sarebbe poi il gap del 4 di settembre con base a 2,914 che più o meno coincide con la linea di tendenza che abbiamo disegnato, quindi siamo vicino a un'area dalla quale potrebbe esserci un rimbalzo, ma oltre al discorso di breve e brevissimo termine non andrei sicuramente a comprare, visto l'incertezza che l'indice sta dimostrando ormai da molti giorni. Se volete diamo uno sguardo anche al Nasdaq, sia in quanto indice a sé stante, ma anche e soprattutto la cosa interessante in questo momento sarebbe guardare la forza relativa tra il Nasdaq e S&P 500, voi sapete che il Nasdaq è un indice con un contenuto di titoli ad alto beta molto maggiore rispetto a quelli che sono all'S&P 500, quindi possiamo considerare il Nasdaq un po' come la lepre e l'S&P 500 il cane che la insegue, infatti vedete che cosa succede durante le fasi di forte rialzo, la forza relativa che è questa curva rossa, che altro non è, la linea che risulta dal rapporto Nasdaq e S&P 500 tende a salire, durante le fasi invece negative la linea rossa tende a scendere, quindi Nasdaq sovraperforma l'S&P 500 quando la borsa sale, lo sottoperforma quando la borsa scende, attualmente siamo in una fase ribassista, possiamo anche tracciare questa linea tendenza, la linea tendenza è stata appena violata, c'è stato anche un return move alla linea, anche la stessa linea se andiamo a tracciare sul grafico dei prezzi, dopo una lunga fase in cui ha funzionato come supporto tra agosto e settembre, è stata violata proprio nelle ultime sedute, guardando la forza relativa e guardando il grafico dei prezzi mi viene da dire che il rischio effettivamente di una fase negativa per la borsa americana è abbastanza elevato, vediamo dove sta la media mobile a 50 giorni esponenziale, era praticamente coincidente con la linea nell'ultima fase quando c'è stata violazione, per fortuna la 100 giorni dovrebbe essere ancora supporto sì e no, perché pensavo fosse leggermente più bassa, invece anche questa sarebbe stata violata nella giornata di ieri, quindi siamo sotto la 50 e sotto la 100 esponenziali, è vero che le due medie nell'ultimo mese sono state quasi orizzontali, quindi in questo momento non hanno una grossa significatività, però fino a che rimarremo di sotto degli 8 mila punti, anche il Nasdaq composito non è certo in una bella situazione, tra l'altro se andiamo a guardare da questa linea tendenza possiamo tracciare un canale, vedete questa linea più o meno contiene l'inclinazione della fase dei massimi, se andiamo a guardare la linea mediana di questo canale più o meno è questa, quindi coincide con l'azione dei prezzi vista tra luglio ed agosto, il canale è quindi credibile e la violazione della base del canale se dovesse trovare conferma nei prossimi giorni, già ci siamo allontanati da questo livello di supporto in maniera abbastanza evidente, però se dovesse rimanere al di sotto di questo supporto varrebbe la regola del raddoppio del canale, quindi ci sarebbe un rischio di tornare a vedere i 7 mila punti di Nasdaq. Come ultima cosa, visto che so che alcuni di voi lo seguono in modo molto attento, guardiamo l'oro, preferisco magari il future che forse è un po' più operativo come quotazioni, quindi andiamo a recuperare il grafico del future sull'oro, abbiamo un testa spalle ribassista che era stato appena completato dalle quotazioni il 30 settembre, ieri però la figura sembrerebbe essere stata negata perché i prezzi sono tornati al di sopra della neckline che vale 1482 circa, sapete che quando c'è il ritorno al di sopra della neckline il pattern viene sostanzialmente negato, in questo momento siamo a 1488, quindi nuovamente al di sopra di questa linea, direi che sull'oro la possibilità di assistere ad un tentativo di rimbalzo c'è a questo punto, verrebbe quasi da pensare che questo non sia stato un testa spalle ribassista, ma semplicemente un flag, quindi cancelliamo la neckline che non è più valida visto che è stata superata il rialzo, compare questo canale, sappiamo che un canale di questo tipo molto spesso ha natura correttiva, si tratta appunto di un flag, la rottura del lato alto del canale che in questo momento passa a 1533 circa, potrebbe essere un segnale di forza in favore della ripresa del trend rialzista, a quel punto avremo la possibilità di vedere i prezzi che salgono almeno verso area 1.630, 1.632, pertanto sull'oro manterei posizione rialzo, stop subito di sotto 1.460, incrementare oltre 1.530 per un target a 1.630 almeno. Con questo direi che è tutto, abbiamo fatto un po' un quadro della situazione, se ci sono domande da parte vostra sui titoli di vostro interesse vi prego come sempre di postarle sulla nostra pagina Facebook o di mandarmi dei messaggi in privato e cercherò di accontentarvi. Ancora una volta buona giornata e a domani con il consueto commento giornaliero.